Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Non avete visto nulla di niente ragazzi, non avete visto nulla, fate finta che non avete visto nulla ragazzi Non è passato nessuno ragazzi Fai leccare il piedino Gaia, voglio leccarti il piedino Fai leccare il piedino Fai leccare il piedino Fai leccare il piedino Gaia Fai leccare il piedino C'è il telefono un attimo? Non c'è l'altro Non c'è il telefono? Perché mi serve la rubrica un attimo Sblocca un attimo Non mi aspetta, io so cosa volete fare Cosa dobbiamo fare scusami Ah mi toccate a te Dovevo indagare Ma che cazzo mi sbatte? Un numero a caso sulla rubrica dobbiamo chiamare Vai Mi sono affezionato a te E... Ho deciso oggi di chiederti di essere annascolomico Ci sposeremo Vai No Ok No, però poi devi riparare il matador Comunque struccate siete bellissimi Amore Ciao amore, cioè non sono Alice, cioè non sono Camilla Siete... 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 Sono un ragazzo Ciao, sì Anch'io Dimmi Cioè da quanto? Eh? Da quanto? Cioè voglio capire chi è il cornuto tra i due Ehm... Tu da quanto stai con lei? Da... Più o meno tre mesi e mezzo Ma lo sei cornuto da il stronzo Ehm... E io un mese Mica Tu cosa fai nella vita? È annunciato che abbiamo fatto lo stadio Tu sai che è annunciato? C'è il presidente che vuole mandare un messaggio Il presidente ha lasciato una notizia bomba C'è il presidente che dice che vuole mandare un messaggio No, stiamo costruendo lo stadio Eh... Lo sapete che si chiama? Eh... Iskido Stadium Guardi cazzo Questa è brutta, eh? Ehm... Scusaci Alice Scusa, non ci permetteremo mai di farlo Oddio Vieni dove? Fa vedere, fa vedere Eccolo un altro Fa vedere Fa vedere Te lo faccio vedere io Fu Betò, guarda Ma prima che fidanzati amici che? Prima che fidanzati prima Il mio padrone che mi investe su di me Amore, dai Prima che fidanzati Cloud Chaser Sì, ma potrebbe... Novento, felpa, felpa, felpa Ehm... Ti scegli se no, stronzo Qua, cioè dice o zaino o felpa Alexi Perché io non so nemmeno dove cazzo c'è qua Ma Alexi, ma poi... Ma lo volete o no, chat? Ma davvero? Sì, sì Sì, sì Sì, lo voglio Aspetta che mi muto Oh chat, per favore, dite di no Ma è sorto il caso di fare sti regali di merda Ma piuttosto lo faccio a me Perché devo fare ad Alexi? Forse due, due, due Un po' piccolo 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 Un tocco? Comincia con due, rosso Vado con due Un po' piccolo Basso uno Un po' piccolo Ma tu non puoi circolare Veramente tu un po' piccolo Un po' piccolo vai ragazzi cerchio fatto bene ma dove sta il presidente ma se tu fai il cantante c'è un motivo vai vai 3,2,1 ma che sto fai ma svegliati posto 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 ma cosa? mazza che ancora è tua che culo ma che culo fa camminare i pallis mamma ma che uscite fatemi più pezzi 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 mamma mia e le riesci allungare until離 cos'è ma chi è sta fumando la canna? eh sai state fumando? si sta fumando una canna io e no e, 12 sig questi del mare perché? 1wo zecca 1 tanto oggi faccio vedere le parti della terza Hillman tossicò che frit investigate ma vengo da voi eh ma io vengo da voi eh son dieci pari si posso dire eh il 2 si Sì, nel dubbio sì. Vediamo? Vediamo l'anellino, fai lui vedere. Ma tu vai raga, l'avete vista ieri la storia, la storia, c'è il rosso che ha paura dei miei cari. No, ma tu, è bello che i cari mi stanno per ammazzare, oh, quella lì. Perché l'effetto? Perché l'effetto? L'effetto, ma. The best friend for us. Dear God, dear, your best friend. Vai. È stato lui, è stato lui, è stato lui, guarda. Che è successo, che è fatto? Non è terminato il basso, no. Ciao Iris, scusami, sono Simone, ho aperto il telefono di Alice a caso perché non la riesco più a... Simone Berlini? Sì, esatto, sono io. Sei l'ex di una delle mie mie amiche? Sei l'ex di Linda? Ciao, scusa. Torniamo, sì. Torniamo domani. Non sai quanto è puttare forte in ufficio? No, tu prova a far venire una cazzo... Ogni, te lo giuro, ogni tipa che entra devi fare la foto, giuro. Ogni tipa che entra devi mettere la foto su Instagram, giuro su Dio. Si entrano più di dieci cazzo di ragazze. Entro stasera, giuro su Dio. Giuro su Dio! Ho messo il cartello fuori, ho messo il cartello fuori, col prezzi, tutto, però è perfetto, faccio business quando ci sei. Ma che business fai? Ma che prezzi di che, Alexi? Ma come vedi? Non si può fare business di... Ma business di che? Ma dove lo trovi? Alexi, ti ricordo che se fai queste cazzate, vieni licenziato, stai attento. No, no! Non devi piangere, Alexi, non buttare le puttane, però. Alexi, qua è tutto bello, qua è tutto bello, è bellissimo. Allora, a loro porto solo uomini, va bene? Ma no, Alexi, è uguale, sono sempre... Eh, ma... Perché voglio gli uomini, Alexi, scusa? Eh, te ne andavano bene. Alexi, ti faccio... Dimmi te. Allora, visto che sei lì da solo. Una volta di Roma? Carbonara. Carbonara. Patriciana. No, ma Carbonara... Criscia. Piccolo seo. Piccolo seo. Acascio e pepe. Allora, per davvero dovresti fare, mangiare la Carbonara, però devi fare male. Cioè, tipo la Carbonara più brutta della vita, come si fa. La panna. E poi fai, per davvero... Una roba su... Ah! Potrebbe avere un senso. Un'altra roba sulla base, io me scopo i cuponi! Ma sei serio? Non mi piace... E qual è il problema? Tu. Comunque io sono arrabbiata con te. Oh! Oh no. No, stamattina ti hai detto. Occhio puoi inquadrare, Camille? Sì, ma te sei arrivata a mezzogiorno. Non è vero. No, stai in passaggio. 5 minuti dopo. 5 minuti dopo. Let's get it now! Let's get it now! Ui, si, 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 si... Vale, non riesco più l'alcol. Ragazzi, vi aspettiamo giù fra 5 minuti, sentimenti. Tutte belle. Per fare? La morte. La morte. Questa è stata la prima interazione. Anche oggi. Questa è lei che ci prova con lui e poi... Ah, è lei che ci prova con lui e poi... Qua lui faceva un po' il fuckboy. Lei chiedeva i baci. Lei chiedeva i baci e lo faceva... Hai bevuto troppo oggi, non ti voglio. E basta. Ah, beviamo! Fai la goccia. Io non vengo a far serata, eh. Se andiamo a far serata. Non me ne fotto un cazzo. È una sorpresa. Sì, quella.